L'Aquila punta sull'arte, nel senso più ampio del termine, per conquistare la giuria chiamata a decidere quale sarà la capitale italiana della cultura 2026. Oggi a Roma, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, la prima delle due giornate di audizioni. Le dieci città che concorrono hanno 30 minuti a testa per elencare le caratteristiche del loro progetto, ma anche il contesto in cui è inserito, i fondi che servono per realizzarlo, le ricadute sul futuro e soprattutto l'anima sottesa all'idea. Poi un'altra mezz'ora è dedicata alle domande della Commissione per chiarire o approfondire eventuali argomenti. La cultura citata nel titolo al quale ambiscono le dieci città è cultura in senso ampio, arte, scienza, tecnologia, sostenibilità, innovazione. E una capitale italiana della cultura deve saper intercettare questi nuovi scenari, cogliere i mutamenti di oggi e le proiezioni di domani. Ed è proprio all'Aquila, come città della scienza, dell'arte e della tecnologia, che si ispira il progetto illustrato oggi a Roma dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, dal coordinatore scientifico del dossier Pierluigi Sacco e dal direttore della candidatura, il professor Alessandro Crociata. I loro interventi sono stati accompagnati da un filmato con le testimonianze dirette di chi ha dato sostanza alla cultura aquilana attivando vari progetti, jazz, sinfonica, arte, danza, musica e così via. Il terremoto prima e la pandemia poi hanno già dimostrato che nei momenti più difficili la cultura riveste un ruolo fondamentale e l'Aquila lo sa bene, consapevole più di altri, che la cultura non è solo cibo, quello che si mangia, quello per cui c'è chi spende e chi guadagna. La cultura invece è soprattutto alimento necessario anche quando è inaspettato, ce lo chiede la mente. All'Aquila a generare cultura sono stati luoghi pubblici feriti dal sisma. L'arte si è esplicitata in ogni dove possibile, anche e molto negli spazi aperti, davanti ai sagrati della fede o nei cortili delle case gentilesche. Tra qualche anno, è stato detto durante la presentazione, le modalità di fruizione culturale saranno molto diverse da oggi. La dimensione fisica e quella virtuale si intrecceranno sempre di più, andando a realizzare esperienze ibride. Non a caso, è l'Aquila città multiverso il nome del progetto proposto dal capoluogo di regione per competere con i finalisti della Capitale Italiana della Cultura 2026. Certo, il cambiamento subito dall'Aquila è anche quello del terremoto, della distruzione arbitraria e non scelta dai suoi cittadini. Ma è proprio questo il punto. La città non si è pianta addosso, ha saputo e voluto proporre cultura anche tra le macerie. La battaglia, inutile nasconderlo, è ardua. Le altre città partecipanti hanno tutto e molto da offrire, seppure con diverse declinazioni. Agnone, Alba, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e l'Unione dei Comuni Valdichiana-Seneze. La sfida è aperta. L'Aquila rinasce attraverso la cultura. L'Aquila come modello replicabile nelle aree interne, come esperienza di ricostruzione materiale e comunitaria.